Buongiorno, siamo arrivati alla nostra settima lezione che tae spunto da un approfondimento legato all'analisi dei fallimenti del mercato. Nella lezione scorsa abbiamo introdotto il concetto di bene pubblico, abbiamo sottolineato che per gli economisti il bene pubblico non è un bene fornito dallo Stato, o meglio il fatto che sia fornito dallo Stato non coincide con la definizione di bene pubblico, perché il bene pubblico è quel bene che è caratterizzato da due proprietà, la non escludibilità e la non rivalità nel consumo. Queste due caratteristiche che si riscontrano in alcuni beni, conducono a una conseguenza. Se la decisione relativamente a quanto produrre e consumare in presenza di un bene non escludibile e non rivale viene lasciata ai produttori e ai consumatori, la quantità prodotta potrebbe essere inferiore a quella socialmente ottima, oppure il bene potrebbe non essere proprio prodotto. Oppure nel caso di un bene già esistente, la tendenza anche al free riding, cioè al fatto di utilizzarlo senza rilevare correttamente quello che è il valore che l'individuo che lo utilizza attribuisce al bene, conduce al fatto che il bene si deteriorerà. Questo comporta un dilemma della cooperazione. Il tema anche al di fuori della scienza economica e all'interno in particolar modo delle scienze politiche è stato trattato anche da un autore piuttosto interessante che prende il nome di Olson. Olson scrive un libro nel 1965 che si intitola La logica delle azioni collettive e sottolinea che a meno che il numero degli individui non sia molto piccolo o a meno che ci sia una coercizione o qualche altro sistema per far agire gli individui nel loro interesse comune, gli individui razionali emossi dall'interesse personale non agiscono per raggiungere i loro interessi comuni o i loro interessi di gruppo. Un tema che in qualche modo conferma una analisi che abbiamo condotto in coda alla nostra ultima lezione. Abbiamo visto, ricorrendo alla teoria dei giochi, che solamente laddove è possibile costruire le condizioni di un accordo preventivo tra i soggetti che fanno parte di una comunità, cioè laddove funzionano dei meccanismi di delega e dove funzionano dei criteri anche di condivisione dei valori e della cultura di riferimento, è possibile pervenire ad una soluzione cooperativa. Cioè è possibile, detto in altri termini, che anche di fronte ad un bene che ha le caratteristiche della non escludibilità e della non rivalità, il valore che gli individui attribuiscono al bene emerga e questo conduce quindi alla possibilità che la collettività si faccia carico del bene stesso. Queste però situazioni sarebbero caratterizzate da contesti di prossimità che rappresentano quindi una situazione in cui il bene pubblico ha anche la caratteristica della località, cioè deve essere un bene pubblico locale. Ed è questa narrativa che ci conduce anche ad introdurre un tema di carattere giuridico che è quello della declinazione opportuna del principio di sussidiarietà, cioè quel concetto per cui un'autorità centrale avrebbe una funzione essenzialmente secondaria, essendo ad esso attribuiti solamente dei compiti che le autorità locale non siano in grado di svolgere da sé. Per cui le caratteristiche dell'intervento dello Stato sarebbero improntate ad efficienza solo in un contesto in cui l'intero Stato è organizzato attraverso il principio di sussidiarietà. E' un tema questo di grande attualità e che oggi è entrato in crisi nel nostro Paese, alla luce del fatto che di fronte alla pandemia una delle istituzioni più importanti per la salvaguardia di un servizio pubblico e la salvaguardia di un diritto, che è il diritto alla salute, organizzato almeno a partire dalla riforma costituzionale del titolo quinto della nostra costituzione che risale al 2001, mi riferisco al sistema sanitario nazionale, riorganizzato soprattutto a livello locale, è andato incontro a situazioni di grave crisi proprio di fronte a questo tipo di shock. Ora, alcuni sostengono che il problema non stia tanto nell'avere dato la possibilità di organizzare questa struttura istituzionale a livello regionale. Il problema è che questa riorganizzazione si è accompagnata ad una profonda riduzione delle risorse messe a disposizione dallo Stato centrale alle regioni per far funzionare il sistema sanitario regionale, oltre ad altre caratteristiche critiche che riguardano la convivenza della erogazione dei servizi sanitari pubblici con il cosiddetto privato convenzionato. Un tema che troverete all'interno del corso di economia pubblica, dove affronterete anche il tema delle principali voci della spesa pubblica, fra cui la spesa sanitaria. Questo per dirvi che non è semplice valutare l'efficienza dei contesti socio-economici ed istituzionali improntati sull'applicazione del principio di sussidiarietà. Proprio perché al di là della ragionevolezza retrostante all'applicazione di questo principio, occorre sempre fare poi anche i conti con il modo in cui lo Stato centrale mette a disposizione le risorse economiche necessarie a che si sia di fronte a un'applicazione del principio di sussidiarietà che è efficace. Non tutte le soluzioni che abbiamo individuato a partire dall'analisi dei beni pubblici sono applicabili in contesti in cui il bene ha le caratteristiche della non escludibilità e della non rivalità. Ci sono casi in cui vi è una scelta politica che conduce alcune collettività a beneficiare e a gestire i beni che vengono presi in affidamento dalle collettività stesse, secondo criteri che non sono né riconducibili all'intervento dello Stato né riconducibili alla gestione privata. Si tratta di quei beni che possiamo definire beni collettivi e che nel linguaggio comune sono stati definiti beni comuni. In inglese commons, questa terminologia è stata diffusa soprattutto a partire dagli anni 90 nel contesto accademico, quando è emersa la rilevanza di un'opera che sarà al centro di questa lezione che è Governing the Commons di Elinor Ostrom. Vi faccio però presente che il concetto di common si distingue in inglese dal concetto di common pool resource, cioè quella situazione in cui siamo di fronte a un bene che è non rivale ma escludibile, cioè quella tipologia di beni che nella tassonomia proposta da Paul Samuelson vengono tradotti in italiano nei manuali come beni comuni. Vi faccio presente che però un bene non rivale ma escludibile, cioè un bene comune nel senso di Samuelson in inglese è un common pool resource, non è un common. I beni comuni nel senso di common sarebbe meglio definirli, e io li definirò nel corso di questa lezione, beni collettivi. Si tratta di quei beni che anche all'interno del nostro ordinamento si tratta di quei beni che derivano da una tradizione di uso comune che trae le sue origini in contesti in contesti pre-capitalistici il più delle volte. L'esempio più immediato soprattutto nel caso italiano è la gestione di alcuni boschi. In altri paesi si tratta soprattutto della gestione di alcuni terreni affidati ad usi civici agricoli che non sono né di proprietà dello Stato né di proprietà di privati e che sono considerati comuni. Altre situazioni presenti sulla scala mondiale sono legate alle risorse idriche destinate alla irrigazione. In un contesto contemporaneo potremmo far ricadere all'interno di questo insieme dei commons anche alcuni beni immateriali che hanno a che fare per esempio con la diffusione e l'implementazione di particolari software applicabili nel campo dell'informatica o particolari linguaggi di programmazione e così via. Il tema dei commons diventa immediatamente oggetto di un accesso scontro intellettuale, soprattutto dopo la pubblicazione nel 1968 di un articolo di un biologo, Garrett Hardin, su una delle riviste scientifiche più importanti per tutti gli scienziati. Ci sono due riviste scientifiche che sono un po' l'obiettivo di qualsiasi accademico. Una è Nature e l'altra è Science. Sono riviste che pubblicano interventi di qualsiasi origine scientifica che però siano in qualche modo già il frutto di ricerche pubblicate altrove. Garrett Hardin pubblica su Science un articolo che si intitola La tragedia dei commons, la tragedia delle risorse collettive. La tesi è la seguente. L'unica soluzione possibile per preservare una risorsa collettiva, una risorsa che è giunta dal passato come un bene che viene utilizzato da tutti e che Hardin da biologo riconduce in particolar modo a beni naturali, ambientali, in particolar modo nel suo articolo come vedremo si parla di un pascolo. L'unica soluzione possibile per preservare la risorsa collettiva e per salvarla dall'egoismo dei suoi utilizzatori è l'instaurazione di un'autorità esterna coercitiva che regoli il comportamento degli attori. Il bene collettivo può essere raggiunto solo cedendo una parte della libertà individuale ad un'autorità esterna che però imponendo strumenti di coercizione violerebbe alcuni diritti fondamentali, alcune libertà fondamentali. Quindi alcuni lettori di Hardin, soprattutto gli economisti statunitensi, utilizzarono spesso queste argomentazioni per sostenere la necessità di creare delle condizioni di gestione privata delle risorse per pervenire ad una soluzione pareto efficiente. Per cui laddove emergono delle risorse che hanno un interesse generale e che quindi anche rispetto alla storia passata sono gestite come risorse collettive visto che in un contesto soprattutto moderno, con un incremento della popolazione, un incremento dei consumi quindi gli individui privati tenderebbero a fare esaurire queste risorse e visto che è poco auspicabile l'intervento coercitivo da parte di un'organizzazione statuale che sovrasta le libertà individuali, dovrebbero comunque essere assegnate ad un mercato. Si dovrebbe creare artificialmente una suddivisione dei diritti di proprietà riferiti a questi beni e la domanda e l'offerta di questi beni dovrebbe comunque rispondere alle leggi del mercato. Come si può rappresentare la tragedia dei Commons di Hardin? Beh, innanzitutto Hardin si riferisce ad un caso apparentemente storico è in realtà una descrizione di un meccanismo astratto che si ritrova nell'opera di un economista dell'Ottocento allievo di Robert Malthus l'economista che ricorderete dal corso di storia del pensiero economico si è confrontato soprattutto con David Riccardo a proposito della teoria del valore e del ruolo che secondo Malthus potevano avere per la crescita economica anche il consumo di beni di lusso che invece secondo Riccardo era dannoso e un economista che tra l'altro prelato, era un ecclesiastico che è passato alla storia anche nell'ambito di altre scienze per la sua analisi del pericolo che l'espansione demografica avrebbe esercitato sugli equilibri sociali anche alla luce del fatto che l'incremento demografico avrebbe generato una grande quantità di poveri che avrebbero destabilizzato il sistema sociale ebbene Foster Lloyd sulla scia delle preoccupazioni del suo maestro Robert Malthus nel 1833 fa il seguente esempio per sostenere la necessità di superare la gestione dei pascoli inglesi fondati sull'idea che questi fossero dei common siccome i pascoli sono utilizzati da tutti quanti gli allevatori e siccome gli allevatori hanno razionalmente il desiderio di incrementare il loro gregge ciascun allevatore cercherà di aggiungere un capo al proprio gregge una pecora in più ma l'incremento del numero delle pecore sorretta da questa razionalità individuale genererà uno squilibrio tra gli equilibri naturali che occorrerebbe per preservare per mantenere fertile il pascolo e la voracità delle pecore questo genererà una situazione in cui ben presto tutti quanti i pascoli che sono destinati ad uso collettivo non potranno essere più utilizzati perché l'erba non crescerà più e tutto sarà ridotto come un deserto come nella foto che vi ho proiettato questa è la tragedia scrive Hardin riprendendo la narrazione di Foster Lloyd ciascun uomo è intrappolato in un sistema che lo costringe ad accrescere il suo gregge senza limiti in un mondo che è soggetto a limiti la rovina è la destinazione verso cui tutti gli uomini concorrono perseguendo il proprio interesse in una società che crede nel libero accesso alle risorse comuni quindi un elemento interessante al di là del fallimento potremmo dire della gestione della risorsa come risorsa collettiva è il fatto che vi sia una contraddizione tra razionalità individuale e interesse generale questo può essere rappresentato ancora una volta ricorrendo alla teoria dei giochi riconoscerete nell'esempio che adesso andrò a descrivervi che sintetizza il ragionamento appena esposto che si ritrova nell'articolo di Garrett Hardin riconoscerete dicevo in questo esempio un caso del famoso dilemma del prigioniero A e B in questo caso sono i pastori i pastori possono decidere se cooperare e non incrementare di un agnello o più in più il loro gregge oppure possono decidere di non cooperare e disinteressarsi degli equilibri da preservare tra il numero dei capi del gregge e il quantitativo di erba di cui le gregge si possono cibare nel caso di cooperazione sia il pastore A che il pastore B avrebbero un vantaggio che possiamo quantificare in termini numerici come 10 tuttavia laddove entrambi i pastori non cooperasse il loro vantaggio crescerebbe crescerebbe da 10 a 11 laddove uno dei due non cooperasse e l'altro continuasse invece a cooperare in modo, dice lo stesso Hardin, sciocco perché non risponderebbe ad un principio di razionalità individuale questo che cosa comporta? comporta che A se deve decidere come comportarsi sapendo che B coopera e quindi non incrementa il suo gregge con dei capi in più avrà un vantaggio a non cooperare perché 11 è superiore a 10 lo stesso accade per B se B si trova di fronte a un A mite conviene a B non cooperare perché utilizziamo qui sempre i criteri della scorsa lezione per cui il numero sulla sinistra è quello che si riferisce ad A e il numero sulla destra è quello che si riferisce a B 11 è superiore a 10 cosa conviene fare A nel momento in cui B invece non coopera? beh, data questa struttura dei payoff se B non coopera ed A coopera A un danno pari a meno 1 se B non coopera e A non coopera invece il danno è solamente 0 stesso discorso vale per B questo conduce ad un equilibrio di Nash che è inferiore rispetto all'equilibrio che in teoria si potrebbe raggiungere se i due cooperasero ma il fatto che prevalga la razionalità individuale fa sì che A sia spinto a non cooperare indipendentemente da ciò che fa B anche B è spinto a non cooperare indipendentemente da ciò che fa A e l'equilibrio a cui si perverrà sarà appunto la tragedia dei commons 0-0 una situazione in cui vi sarà una scomparsa del bene collettivo ci sono delle critiche che possono essere svolte contro Hardin la prima critica è quella presente nel testo di Ostrom del 1990 governing the commons Hardin in realtà confonde il concetto di res nullios con il concetto di res communes cioè considera una cosa di nessuno un qualcosa che invece è una risorsa collettiva che può avere una struttura istituzionale retrostante tant'è che nella storia romana e nel diritto romano si poneva una distinzione fra res nullius e res communes e dietro al concetto di res communes vi erano altre considerazioni da svolgere vi ricordate quando nella scorsa settimana abbiamo introdotto il punto di vista di Nozick circa la funzione di benessere sociale Nozick è un teorico dello stato minimo e ritiene che l'unico diritto fondamentale sia quello legato alla tutela dei diritti di proprietà e che laddove ci sia una risorsa che non ha un proprietario allora si deve definire un diritto di proprietà su quella risorsa per incrementare l'efficienza del sistema economico e sociale di riferimento da un lato ma anche per realizzare la sua idea di equità avevo criticato tra le altre cose questo approccio alla funzione del benessere sociale sostenendo che il modo in cui Nozick si riferisce anche alla storia dell'uomo non tiene conto del fatto che alcune civiltà in particolar modo gli europei che giungono nelle sterminate terre nel nord america iniziano a definire dei diritti di proprietà formalmente ineccepibili su strutture che però pur non avendo una un criterio di gestione e di e di e di preservazione formalizzato erano caratterizzate da equilibri sociali millenari che erano retrostanti alla cultura dei nativi americani quali nativi americani in nome dell'efficientismo occidentale e della supremazia dei diritti di proprietà sul resto vennero di fatto sterminati e oggi esistono ed esistono nelle loro comunità solo come eccezioni cioè solo come individui il cui significato è legato a riserve vere e proprie che sono al contempo riserve naturali e culturali un tema di una grande e desolante attualità anche alla luce del fatto che qualche anno fa lo Stato americano ha voluto impugnare gli accordi legati alle riserve naturali e culturali dove sono stati confinati i nativi americani nel nome della estrazione di nuove risorse energetiche che avrebbero dovuto comportare una riduzione dei territori assegnati alle riserve e ai parchi naturali in cui queste comunità si trovano a vivere per non parlare anche delle modalità di sanificazione fondate sulla sterilizzazione dei nativi d'America che in taluni fasi della nostra storia anche contemporanea hanno fatto hanno determinato insomma la modalità con cui le forze di governo in diversi stati degli stati uniti si sono rapportate a queste popolazioni ma sto andando forse troppo veloce mi interessa invece adesso soffermarmi su altre critiche che possono essere condotte e che sono state condotte nei confronti dell'articolo di Ardyn vi è una seconda critica che si ritrova nel testo di Elinor Ostrom e che è stata anche ripressa più recentemente all'interno di un volume curato proprio dal gruppo di ricerca dell'università Panteon Sorbonne che ha preso parte ai progetti europei di Scent e Decode negli ultimi sette anni e questo volume si intitola Il comune come modo di produzione per una critica dell'economia politica dei beni comuni ed è stato scritto da Carlo Vercellone Francesco Brancaccio Alfonso Giuliani e Pierluigi Vattimo e questi autori insieme anche alla Ostrom con argomentazioni diverse sottolineano il fatto che Ardin fa completamente astrazione dai rapporti sociali e dalle istituzioni informali che inquadrano i comportamenti individuali e collettivi in qualche modo è una sorta di corollario rispetto alla prima critica quella di confusione fra res nullius e res communes perché è proprio un approfondimento un invito ad approfondire che cosa sono le istituzioni informali retrostanti al concetto di res communes ma vi è anche una terza critica molto interessante questa originalissima condotta da Vercellone e dai suoi coautori Ardin sembra non conoscere la storia reale retrostante alle vicende narrate da Foster Lloyd e contribuisce e costruisce Foster Lloyd e contribuisce alla diffusione di una sorta di invenzione della tradizione Ardin un esempio che è fuori dalla storia reale e che in particolar modo non prende in considerazione le enclosures che cosa erano le enclosures e perché è rilevante il contesto storico per comprendere quello che erroneamente Ardin chiama tragedia dei commons dovete sapere che il problema concreto della assenza di comportamenti cooperativi e quindi di rischio di desertificazione delle lande che un tempo erano destinate a pascoli comuni emerge solo dopo molti secoli per secoli e secoli in Inghilterra si gestiscono le terre come terre comuni non ci sono problemi generali di conflitto fra le varie comunità certo ci possono essere fasi storiche di conflitto rispetto ai comportamenti che tendono ad emergere tendono ad emergere ma per molti secoli questi comportamenti condividono un atteggiamento pacifico delle varie famiglie che gestiscono le greggi quando le greggi iniziano a essere troppe per poter continuare a collaborare non perché le greggi iniziano ad essere troppo grandi in senso assoluto ma perché le terre comuni iniziano a ridursi e perché le terre comuni iniziano a ridursi bene le terre comuni iniziano a ridursi perché avviene a partire dal XVI secolo una scelta istituzionale di tipo nuovo le enclosures le recinzioni viene imposta la diffusione del diritto privato contro gli equilibri possibili del di un altro tipo di diritto che pone al suo centro per quanto riguarda la preservazione dei beni collettivi il concetto di res comunes voglio leggervi un breve passo tratto proprio dal testo il comune come modo di produzione per lasciare traccia di questa critica la tragedia dei commons di cui parla Hardin scrive Carlo Vercellone in questa parte del testo insieme ad Alfonso Giuliani non è in realtà altro che una tragedia degli anti-commons legata alla distruzione delle forme di proprietà e di governance delle terre comunali ci troviamo dinnanzi a quella che Tommaso Moro aveva già ben sottolineato in utopia quando facendo riferimento alla appropriazione privata delle terre comunali scriveva le vostre pecore che di solito sono così dolci e si nutrono di così poco mentre ora a quanto si riferisce cominciano a essere così voraci e indomabili da mangiarsi financo gli uomini in quelle parti infatti del reame dove nasce una lana più fine e perciò più preziosa nobili e signori e persino alcuni abati non paghi delle rendite dei prodotti annuali che ai loro antenati e predecessori sollevano provenire dai poderi e non soddisfatti di vivere fra ozio e splendori senza essere di alcun vantaggio al pubblico quando non siano di danno cingono ogni terra di stecconate ad uso di pascolo senza nulla lasciare alla coltivazione e così diroccano case abbattono borghi risparmiando le chiese solo perché vi abbiano stalla i maiali infine come se non bastasse il terreno da essi rovinato a uso di foreste e parchi codesti galantuomini mutano in deserto tutti i luoghi abitati e quanto c'è di coltivato sulla terra quando dunque si dà il caso che un solo insaziabile divoratore peste spietata del proprio paese aggiungendo campi a campi chiuda con un solo recinto varie migliaia di iugeri i coltivatori vengono cacciati via e irretiti da inganni e sopraffatti dalla violenza sono spogliati del proprio ovvero sotto la culeo di ingiuste vessazioni sono costretti a venderlo questo è Thomas Moore in utopia questa quindi è una delle falsità storiche che Hardin chiaramente non aveva diciamo il dovere di trattare essendo lui un biologo all'interno di un articolo che in realtà aveva probabilmente come obiettivo solo quello di segnalare un ragionamento logico che dinanzi all'incremento della popolazione e all'incremento degli usi delle risorse naturali nel mondo siamo nel 1968 voleva segnalare appunto la necessità di discutere questo tipo di problemi l'uso che è stato fatto dagli scienziati politici e da molti economisti è stato invece quello di prendere per dimostrato anche sul piano empirico un ragionamento che in realtà si regge soprattutto sulla ipotesi che gli individui siano solo animati da una razionalità individuale siano tutti omini economici è tutto chiaro finora? Stefano mi senti? Mi sentite? Sì Pierluigi ciao abbiamo Pierluigi Vattimo che è uno degli autori anche del comune come modo di produzione Pierluigi vuoi già intervenire oppure posso andare avanti? giusto per avere conferma il fatto che mi sentite in realtà vi sto seguendo già da un po' aggiungerei giusto una inchiosa alle osservazioni che ho appena fatto che è appunto sull'articolo di Hardin quell'articolo è stato fondamentalmente utilizzato malo modo secondo il mio punto di vista per imporre l'individualismo metodologico come metodo e quindi dell'home economicus continuo poi magari intervengo quando me lo dici tu va bene grazie la tua puntualizzazione è molto rilevante anche alla luce del fatto che come vedremo almeno dal mio punto di vista non so se Pierluigi sarà d'accordo in tutto e per tutto la ricerca invece di Elinor Ostrom mette in crisi anche l'approccio dell'individualismo metodologico il libro che ho già citato del 1990 governing the commons che esce per Cambridge University Press è una prima teoria delle risorse collettive dei commons in cui anticipo qui la tesi la Ostrom dimostra che è storicamente possibile elaborare modelli istituzionali che favoriscono la cooperazione volontaria da parte degli attori sociali e che questa soluzione è anche più efficiente per il beneficio che gli individui possono trarre dalla risorsa e per il suo mantenimento libro dell'Astrom che purtroppo è andato fuori commercio in italiano lo trovate in inglese anche scaricabile gratuitamente se lo cercate attentamente sul web era stato tradotto nel 2006 quindi prima che venisse conferito ad Ostrom il premio Nobel per l'economia prima economista donna ad aver ottenuto il premio Nobel per l'economia solamente nel 2008 ed è stato tradotto da un non economista tant'è che dopo il conferimento del Nobel a Elinor Ostrom saranno molto imbarazzati gli economisti o perché non conoscevano la Ostrom o perché l'avevano sempre solo considerata una scienziata politica ma cerchiamo di procedere con ordine e ritorniamo a sottolineare l'uso della teoria dei giochi per cercare di sintetizzare con le tecniche d'analisi degli economisti alcuni messaggi dell'opera della Ostrom beh innanzitutto la Ostrom sottolinea che il dilemma del prigioniero che descrive la tragedia dei Commons secondo Hardin dipende esattamente dalla scelta che noi operiamo sui pay off che sono giustificati a loro volta dal tipo di razionalità che rientra fra le ipotesi dell'analisi di Hardin se per esempio stabilissimo che di fronte allo stesso problema ci fosse una gestione autoritaria da parte di un'autorità esterna in grado di determinare esattamente la capacità di sfruttamento di una risorsa collettiva del pascolo e se se l'autorità esterna assegna le capacità di sfruttamento in modo non ambiguo vigilando sulle azioni compiute dai pastori dagli allevatori e sanzionando in modo infallibile le infrazioni beh allora i pay off cambiano perché il tipo di atteggiamento non cooperativo che nell'esempio precedente dava laddove fosse avvenuto in una situazione in cui l'altra parte continuava a cooperare un pay off pari a 11 e adesso sarà ridotto e sarà ridotto a 9 per quale motivo perché l'autorità tenderà a punire con una multa pari a 2 l'atteggiamento non cooperativo e l'atteggiamento non cooperativo viene punito esattamente in modo tale da creare un incentivo alla cooperazione come vedete in questo caso l'incentivo alla cooperazione è valido sia per B che per A e la coppia meno 2 meno 2 non è più un equilibrio di Nash l'equilibrio di Nash è invece la soluzione cooperativa la Astrom riconosce il fatto che l'intervento dello Stato ha natura autoritaria e coercitiva ma non considera non etico uno Stato che opera in questo modo lo considera una riduzione di un comportamento che invece è illegittimo e votato alla sopraffazione di un individuo su un altro non si tratta di rinunciare a un diritto fondamentale il diritto ad un'azione egoistica ma si tratta semplicemente di porre un limite alla libertà personale per preservare la libertà degli altri e per pervenire ad un risultato socialmente preferibile qual è il problema della gestione autoritaria secondo la Ostrom il problema della gestione autoritaria è che il più delle volte non vi è completezza di informazioni affinché l'autorità determini esattamente la capacità di sfruttamento di una risorsa collettiva primo deve conoscere la capacità di sfruttamento cioè deve capire esattamente a quanto ammonta il danno di un comportamento che va a mettere a repentaglio la fertilità delle terre in secondo luogo deve essere sempre in grado di comprendere chi sta tenendo un comportamento sbagliato e in terzo luogo deve creare delle condizioni di sanzioni che siano correttamente calcolate infatti quegli stessi payoff che ho appena proiettato in assenza di completezza delle informazioni assumono una forma più astratta l'autorità esterna ha informazioni complete in questo caso sullo sfruttamento massimo del palco del pascolo ma ha informazioni incomplete sulle particolari azioni compiute dagli allevatori per cui può punire le mancate cooperazioni con probabilità y ma potrebbe anche non punirle con probabilità 1-y cioè compiere una sorta di errore del primo tipo in secondo luogo potrebbe punire le azioni cooperative con probabilità x cioè compiere un errore del secondo tipo e non punire le azioni cooperative con probabilità 1-x in questo caso la matrice dei pay off assume questa forma a questo punto diamo un valore alle probabilità x e y cioè alla probabilità di punire le mancate cooperazioni y e la probabilità di non punire le azioni cooperative che invece data da 1-x e assegniamo a x 0.3 un 30% di probabilità e a y un 70% di probabilità quindi con il 30% delle probabilità il nostro stato punisce le azioni cooperative e con il 70% di probabilità punisce le mancate cooperazioni questo punto sostituiamo a x e a y all'interno della matrice i valori 0.3 0.7 e otteniamo una nuova matrice dei pay off cosa notate in questa matrice dei pay off quale sarà l'equilibrio di Nash me lo dice Roberta Barteselli eccomi Roberta secondo te in questa matrice qual è l'equilibrio di Nash allora se guardo B a B viene non cioè conviene non cooperare esatto e se guardi a anche a lui conviene non cooperare esatto quindi abbiamo ripristinato il risultato precedente il valore dei pay off è evidente diverso da quello del dilemma del prigioniero che descriveva la tragedy of the commons di Ardyn ma il risultato è esattamente lo stesso e dipende dal fatto che appunto i valori di x e y in questo caso non sono pari a 1 notate che se avessimo valori pari a 1 di x e di y cioè se non si commettessero errori allora ritorneremmo nel caso dell'efficienza della gestione autoritaria ma il rischio che una gestione autoritaria sia caratterizzata da incompletezza delle informazioni è molto alto l'altra soluzione sarebbe quella della privatizzazione ma come sottolinea e argomenta nel suo libro Elinor Ostrom la privatizzazione pone problemi di disponibilità delle informazioni e di conservazione della risorsa e alcuni beni inoltre non sono privatizzabili cosa significa? Significa che da una parte secondo la Ostrom tra i common possono esserci anche dei beni pubblici cioè dei beni che hanno le caratteristiche di non escludibilità e non rivalità la cui privatizzazione genererebbe un fallimento del mercato esattamente come per le ragioni che avevamo già messo in evidenza nella scorsa lezione e che aveva chiarito già nella sua analisi Paul Samuelson cioè l'incentivo al free riding inoltre privatizzare un bene significa assegnare correttamente un diritto di proprietà ma assegnare correttamente un diritto di proprietà significa avere una disponibilità delle informazioni adeguata per fare in modo che chi si troverà ad essere proprietario di quel bene sia effettivamente la persona che rispetta il contratto ci sono tanti aspetti di questo discorso che potrebbero essere approfonditi uno di questi ha a che fare con il concetto di asta pubblica anche noi nel nostro paese abbiamo dei beni che lo stato decide di assegnare a privati o meglio ne assegna l'uso pensate ai beni dei maniali come le coste e alcuni altri luoghi come le riserve naturali i lidi marini sono esattamente delle assegnazioni sul lungo periodo di una gestione privata di un demanio pubblico ma qual è il modo migliore di assegnarlo e siamo sicuri che nel momento in cui lo abbiamo assegnato colui che può sfruttarne i vantaggi economici sappia anche preservare le caratteristiche necessarie affinché per esempio le spiagge e il patrimonio faunistico e dell'ambiente circostante sia preservato e questo presuppone comunque un farsi carico di un costo di monitoraggio da parte dello Stato e comunque comporta in talune circostanze dei costi di transazione come li chiamano gli economisti molto molto alti in termini di reperimento delle informazioni questa è la linea di ragionamento che effettua la Ostrom e quindi sottolinea come ci possono essere dei casi in cui sia la soluzione della privatizzazione sia la soluzione della gestione autoritaria possa condurre a dei costi sociali che rendono più conveniente una soluzione terza ma qual è questa soluzione alternativa? Beh la Ostrom dice guardate è possibile che gli allevatori avvino dei negoziati nel caso per esempio del pascolo di Foster Lloyd prima di portare gli animali al pascolo decidendo le possibili strategie per accordarsi sullo sfruttamento massimo del pascolo e i costi legati all'applicazione forzata del loro contratto l'unico accordo possibile in questo caso comporta che entrambe le parti condividano i livelli di rendimento sostenibili del pascolo e i costi relativi all'applicazione forzata del contratto ma da che cosa dipende questa soluzione? Cioè da che cosa dipende un atteggiamento cooperativo che potremmo sintetizzare con il detto popolare patti chiari amicizia lunga sicuramente qui c'è un elemento legato alla dimensione della collettività di riferimento perché un accordo ci sia deve esserci la possibilità di riconoscersi e di patteggiare certamente dopodiché deve esserci anche però una cultura condivisa una fiducia in qualche modo costruita nel corso del tempo e la Ostrom a questo punto ha bisogno però di fare un passo in più perché non si tratta più solamente di ragionare in termini logici non si tratta neanche più di utilizzare la teoria dei giochi tra l'altro tra parentesi sempre lo stesso gioco viene ripresentato dalla Ostrom in un contesto in cui gli allevatori avviano i negoziati prima di portare gli animali al pascolo questo gioco viene rappresentato come un gioco a più stadi e lo ritrovate per chi è interessato all'interno del secondo capitolo del testo della Ostrom non lo spiego in questo contesto perché è un pochino più complicato rispetto agli esempi che abbiamo visto sinora mi interessa invece mostrarvi che comunque la Ostrom fa un ulteriore passo quel passo che la porta distante da un metodo di ricerca fondato sull'individualismo metodologico e la porta a fare un'analisi empirica ma l'analisi empirica la fa non dietro una scrivania raccogliendo dei data set cosa importantissima per un economista ve la farò fare anche io ma ricordandovi sempre perché io credo anche nella nella analisi empirica in un senso più profondo che la raccolta di statistiche e la elaborazione di dati con modelli econometrici non esaurisce ciò che l'analisi empirica è l'analisi empirica per Ostrom è analisi sul campo la Ostrom in questo senso è una scienziata sociale a tutto tondo non si limita alla teoria dei giochi non si limita alla raccolta di statistiche decide di costruire un programma di ricerca di vent'anni inizia a trovare dei collaboratori che vanno in giro per il mondo a cercare dei casi studio a vivere per mesi in luoghi in cui osservano il comportamento delle collettività le intervistano lavorano come degli scienziati sociali che sanno che non tutto può essere catturato dal dato e dai modelli logici analitici la realtà è molto più ricca gli esempi che si ritrovano all'interno del testo della Ostrom sono quello delle risorse collettive di pascolo e risorse collettive di boschive sulle Alpi in particolar modo viene illustrato il caso studio di un villaggio di 600 abitanti di Svizzera Torbel ma voi siete di Bergamo e non farete fatica a trovare casi analoghi anche nelle nostre montagne di risorse collettive sia per ciò che concerne i pascoli sia per ciò che concerne la salvaguardia delle foreste trova un altro esempio quello delle risorse collettive legate alle foreste e alla pulizia delle foreste quindi ad una raccolta del legname che non viene fatto per ottenere profitti i più alti possibili questo magari avrebbe condotto all'abbattimento degli alberi ma viene fatto appunto per preservare un equilibrio quello di un bosco che sia utilizzabile dove possano anche nascere delle piante che ha bisogno di una pulizia fondamentale quindi che alcuni rami vengano tagliati dagli alberi altri che magari sono caduti vengano portati via dalla collettività pulendo il bosco il bosco è più utile per quella collettività e questo accade ad irano a nagai che a yakamoto cioè in giappone vi è poi un altro esempio anche questo che trae origini addirittura dal dalla storia del europea del nel 1400 e sono i sistemi di irrigazione le huertas nella spagna del sud nei pressi di valencia murcia oriuela e alicante e anche qui ci troviamo di fronte a risorse collettive che sono affidate a più di un villaggio e che hanno una storia che si perde nel nel passato e che testimonia una grandissima longevità infine le comunità di irrigazione zaniera nelle filippine cosa accomuna tutti questi casi studio innanzitutto scrive la ostrom per quanto riguarda le caratteristiche proprie delle risorse più più queste sono osservabili e misurabili maggiore sarà la facilità nel ricorso a strategie cooperative per il loro sfruttamento cioè se abbiamo a che fare con risorse naturali noi siamo sempre in grado di capire quanta legna può essere raccolta da ciascuna famiglia nel villaggio o come ridistribuirla quanta acqua può essere utilizzata per l'irrigazione dai contadini della zona se invece ci troviamo di fronte a risorse la cui disponibilità diventa difficile da misurare e la cui localizzazione si perde su territori troppo vasti beh allora le strategie di recuperazione possono venire meno ma poi vi sono altri fattori non si tratta solamente delle caratteristiche naturali in sé di queste risorse si tratta anche dei fattori sociali culturali in generale le ricerche condotte da Ostrom e dai suoi allievi che non sono raccolte solamente in governing the commons ma poi vengono a essere ampliate anche sui cosiddetti knowledge commons sui beni collettivi della conoscenza è una ricerca che Ostrom inizia a condurre con Hess e che non viene però conclusa dalla Ostrom che morirà di lì a qualche anno ma che è ancora estremamente interessante perché noi ci troviamo di fronte a un mondo in cui la maggior parte delle risorse su cui è emersa l'esigenza politica di una gestione né pubblica né privata hanno carattere immateriale i fattori sociali che si riscontrano anche in questi casi studio ci dicono che la gestione comune dei commons è favorita da una elevata coesione sociale da un'elevata omogeneità ora questa cosa chiaramente può essere declinata come la cultura che è individuabile all'interno di un contesto locale cittadino regionale ma non solo su questo magari Pierluigi potrà fare qualche considerazione quando mi riferivo all'esempio dei software che sono difesi come risorse comuni le decisioni di gestione di questi software sono assunte da una cultura generale che non è confinata ad un villaggio o a un quartiere o a una città ma che è propria di un movimento culturale di dimensioni mondiali che è quello appunto delle community che si ritrovano annualmente nei cosiddetti hack meeting facciamo un passo in più e andiamo a elencare le caratteristiche ricorrenti degli esempi studiati e riportati in governo in the commons sono otto la chiara definizione dei confini cioè gli individui o le famiglie che hanno diritto di prelevare unità di risorse dalla risorsa collettiva devono essere chiaramente noti così come devono essere definite le modalità di uso di quella risorsa seconda caratteristica ci deve essere congruenza tra le regole di appropriazione quelle di fornitura e le condizioni locali le regole di appropriazione che limitano i tempi i luoghi le modalità le quantità che possono essere prelevate del bene sono legate alla convivenza locale e a regole di fornitura che richiedono anche risorse messe a disposizione dalla comunità locale attenzione non solo e non tanto risorse monetarie ma in termini di tempo di tempo di lavoro però questo tempo di lavoro è un tempo di lavoro come dire diverso dal lavoro che caratterizza il rapporto fra un datore di lavoro e un lavoratore è in realtà un tempo libero che non corrisponde a un rapporto salariato ma che corrisponde alla cura che i singoli individui hanno nella propria collettività qualcosa che ritroviamo anche noi io ce l'ho ben presente io sono cresciuto in un borgo del centro Italia e nessuno aveva stabilito delle regole tali per cui le piazze dove giocavano i bambini dovevano essere spazzate dagli abitanti di quelle case nessuno aveva stabilito delle regole circa gli orari in cui i bambini potevano giocare a pallone in quelle piazze nessuno aveva stabilito delle regole circa le urla e i rimproveri che le persone anziane dalle finestre davano a bambini che non erano loro per preservare un certo livello di educazione nessuno aveva stabilito delle regole per cui alle 6 di sera le nonne dicevano ai bambini di rientrare e andavano a trovare le persone anziane di quel borgo con i bambini però si faceva così e si faceva così da decenni era un modo di costruire una congruenza fra le regole di appropriazione e fornitura di quello che comunque era un common quel borgo era un common era bello viverlo in quel modo purtroppo quel tipo di atteggiamento nei confronti delle cose di tutti sta scomparendo ma esisteva 3 metodi di decisione collettiva cioè la maggior parte degli individui interessati dalle regole operative può partecipare alla modifica delle stesse 4 ci deve essere un controllo i sorveglianti che controllano attivamente le condizioni d'uso della risorsa collettiva e il comportamento di chi se ne appropria devono essere diffuse tra tutti coloro che se ne appropriano il controllo deve essere un controllo di tutti su tutti 5 ci devono essere delle sanzioni progressive ci sono delle sanzioni progressive nelle esperienze osservate dai collaboratori di Elinor Ostrom e che abbiamo richiamato prima chi si appropria della risorsa ma viola le norme operative riceve sanzioni che possono essere simboliche oppure possono essere anche monetarie oppure possono stabilire una sanzione in termini di esclusione dalla collettività 6 devono esserci meccanismi di risoluzione ci sono e quindi la Ostrom consiglia che laddove si voglia prendere una decisione di gestione collettiva di una risorsa ci siano meccanismi di risoluzione dei conflitti cioè gli appropriatori e i loro incaricati hanno rapido accesso ad ambiti locali dove è possibile a basso costo dove è possibile risolvere i conflitti tra gli appropriatori o tra gli appropriatori e gli incaricati quindi e questo si intreccia anche con vicende spesso non riconosciute come legali chiunque chiunque di voi abbia fatto un viaggio nell'entroterra sardo sa per esempio che ci sono delle strutture collettive che accanto alle istituzioni comunali rappresentano un riferimento per quelle che devono essere anche le sanzioni all'interno della comunità vi è una sorta di legge non scritta che conta in talune circostanze di più della legge scritta e questo però in uno stato di diritto può creare delle tensioni deve esserci poi un livello di riconoscimento al diritto di organizzarsi cioè deve esserci una forma di applicazione del principio di sussidiarietà tale per cui lo stato centrale non considera illegale l'autonoma organizzazione della collettività questo è un tema di grande rilevanza su cui spero che Pierluigi possa aggiungere qualche cosa e infine una sorta di corollario a questo settimo principio a questa settima caratteristica nelle organizzazioni articolate su più livelli le attività le attività cioè quindi nelle grandi organizzazioni le attività di appropriazione fornitura controllo e applicazione forzata di risoluzione dei conflitti e di amministrazione sono diciamo organizzate su livelli concentrici per cui vi è un riconoscimento progressivo sui diversi livelli di governo il tempo a mia disposizione finisce qui se avete delle domande sono ben contento di rispondere a queste domande però prima vi pregherei di lasciare lo spazio al dottor Pierluigi Vattimo per alcune considerazioni in merito a questo discorso e mi piacerebbe anche avere da Pierluigi alcuni elementi più legati alla ricerca sul campo che ha svolto a Napoli a proposito dei commons napoletani grazie Stefano io non prenderò molto tempo in realtà mi ero preparato più o meno cinque cartelle su alcuni aspetti critici delle analisi di Elini Rostrom perché le osservazioni che finora il professore Lucarelli ci ha proposto sono funzionali alla comprensione di un dato e cioè che grazie al lavoro di Elini Rostrom in qualche modo si è rimesso al tema il problema dei commons che era in qualche modo sparito dal panorama delle scienze economiche in particolare io a proposito non penso sia un caso infatti che in Italia il lavoro di Rostrom non sia stato tradotto da un economista ma piuttosto da un giurista in effetti noi in Italia abbiamo una tradizione dal punto di vista degli studi che afferiscono alle scienze giuridiche più più importante rispetto al tema dei commons e vi faccio un nome su tutti che è quello di Stefano Rodotà e lo cito perché voglio enunciare la definizione di commons che dava il professore Rodotà per Rodotà i commons erano quei bene o quei servizi funzionali allo sviluppo della persona umana capite che questa è una definizione che va anche in qualche modo si pone anche in rottura rispetto a le tesi di Erini Rostrom perché è una definizione estensiva Erini Rostrom nella sua analisi in qualche modo recintava nuovamente le commons pur resource le richiamavano così e quindi i commons dentro uno schema ben preciso però è inevitabile che il lavoro di Erini Rostrom abbia riportato al centro questo dibattito e intorno a questo dibattito oggi c'è un'attenzione importante dell'accademia ma non solo anche delle scienze politiche quindi più in generale delle scienze sociali e questo per introdurre appunto a quello che voleva essere il mio intervento oggi cioè a quelle che sono le critiche che in qualche modo si possono fare all'analisi di Erini Rostrom allora quindi primo aspetto quando Erini Rostrom parla di commons distingue quindi commons al regime aperto che lei poi chiama open access regime i commons ad open access regime oppure le res nullius se vorremmo tornare alla definizione al ragionamento intorno all'articolo di Hardin dai commons per resource e quindi lei poi c'entra la sua attenzione su questa seconda categoria di commons che definisce nel testo scritto a quattro mani con Hess che era anche il compagno di vita di Erini Rostrom come una risorsa condivisa da un gruppo di persone e spesso vulnerabili di dilemmi sociali e quindi intorno ai commons pool resource poi lei c'entra la sua la sua indagine che come ha ben spiegato anche il professore Lucarelle è un'indagine spesso empirica e qui vengo un po' anche allo stimolo che mi faceva il professore e quindi entra nel merito di quello che appunto significa fare un'analisi empirica dei casi studi quando io mi sono approcciato allo studio delle esperienze cosiddette dei beni comuni emergenti partenopei l'ho fatto con un invito che mi veniva dal laboratorio a cui sono a cui offerisco che era quello di dimostrare se gli otto principi di governance che sono stati appena rancati dal professore che ancora vedete l'anno e le slide effettivamente coincidono rispetto a quella che era l'esperienza che sono funzionali a spiegare cosa sta avvenendo per esempio a Napoli intorno ai beni comuni emergenti partenopei cioè andare a verificare se questi otto principi effettivamente sono dimostrati e se quindi nel caso napoletano si poteva parlare di per come erano stati definiti da ebbene abbiamo scoperto che in realtà non c'è una coincidenza totale è vero che alcuni principi rimangono assolutamente validi ma è vero anche che spesso poi la realtà è ben più complessa di come in qualche modo noi cerchiamo di formalizzarla nelle nostre tesi e nelle nostre pratiche per cui quello che è emerso è che il principio della Common Spool Resource che ci dà Ostrom e poi anche la sua scuola che viene definita la scuola di indiana in qualche modo presenta dei limiti uno dei limiti più visibili emerge quando si va ad osservare la differenza che Erin Ostrom fa tra risorsa e gestione del prodotto dell'azione comune degli individui lei in qualche modo introduce un principio e cioè quello per cui la risorsa prodotta in comune può essere fatta di applicazione da parte di non solo di chi ha partecipato alla realizzazione della risorsa stessa ma anche di attori diversi e quindi essere ceduta anche sul mercato ebbene in questo caso l'analisi di Eris Ostrom non coincide con quanto osservato a Napoli ma se vogliamo più in generale con quanto con quanto con quello che è stato il dibattito che si è sviluppato anche tra giurista e economisti in Italia vi faccio un esempio che è quello ripreso anche da Ugo Mattei che è anche un altro giurista che ha lavorato insieme anche a Stefano Rodotà per tanti anni che che ci parla del dibattito che c'è stato in Italia in occasione del referendum che credo qualcuno di voi ricorderà nel 2011 in occasione del referendum sulla cosiddetta privatizzazione per l'acqua allora in quell'occasione si poneva l'attento sul fatto che la risorsa AC in quanto tale non era fatta oggetto di un meccanismo di privatizzazione cioè non si stava privatizzando l'acqua ma si stava privatizzando la modalità di gestione del servizio dell'acqua Ugo Mattei ci fa notare diligentemente secondo il mio punto di vista che privatizzare la gestione del servizio equivale a privatizzare le risorse perché il bene acqua diventa un bene che tra l'altro è un bene essenziale funzionale nel momento in cui ognuno di noi può soffrire dell'acqua stessa è ovvio che se privatizzi il servizio e se quindi fisso dei paletti d'accesso che sono in quel caso tra l'altro poi regolamentati dal mercato sto escludendo qualcuno dall'accesso al bene stesso perché lì dove io poi non posso pagare la bolletta dell'acqua per ritornare all'esempio vengo escluso dalla possibilità di usufruire di questo servizio e quindi questo esempio dimostra che per quanto assolutamente brillante sono le analisi di rinostrum presentano delle criticità e quindi che il discorso sui beni comuni e su comune va in qualche modo ulteriormente approfondito e io faccio parte come vi anticipava Stefano di questo laboratorio di ricerche che si interroga quindi su un problema epistemologico che ha a che fare quindi con i beni comuni e il comune cioè come definiamo i beni comuni li definiamo a partire dalle caratteristiche intrinseche dei beni stessi o dei servizi stessi oppure abbiamo una necessità che è omessa dall'analisi di rinostrum di osservare anche l'organizzazione del lavoro per come tra l'altro si è anche sviluppata nel corso degli ultimi anni e quindi è necessario introdurre altre categorie prima Stefano mi invitava a sviluppare una riflessione per esempio intorno ai software no e a come spesso i software sono intesi come risorse comuni e se noi pensiamo oggi le reti informazionali io li chiamo così no e ci rendiamo conto che sono essenziali per la produzione di valori d'uso ma anche di valori sociali se volete e quindi essenziale alla produzione di una ricchezza sociale ebbene la ricchezza sociale nel momento in cui è prodotta dalla prospettiva del mio laboratorio di ricerca in quanto tale è un common quindi se assumiamo questo punto di osservazione la tassonomia che propone Erini Rostrom per quanto possa dirsi alternativa rispetto a quella samolsiana in realtà sta dentro lo stesso solco e quindi questi per dire alcuni aspetti critici da sottolineare all'approccio di Erini Rostrom vi ripeto non voglio prendere tantissimo tempo io non ti risponderò mi pare utile che i ragazzi e le ragazze si rendano conto come ci troviamo in questi casi ad una frontiera della discussione sia politica che scientifica perché in effetti il punto poi è al di là degli aspetti positivi cioè di quelle che sono le descrizioni che noi possiamo fare delle esperienze che osserviamo se possiamo trarre delle indicazioni normative e su questo è chiaro che c'è una discussione in campo che conduce anche a a un confronto su che cosa si deve intendere dal punto di vista anche giuridico per bene comune però al di là di quello che ho cercato di fare emergere nel mio discorso e cioè che già dentro la ricerca di Ostrom c'è una sfida a vedere la portata della sua tassonomia applicandola non a beni naturali ma a beni immateriali e a commons immateriali penso che sia interessante prima di terminare questa lezione una tua testimonianza su che cosa è accaduto a Napoli e qual è stato il rapporto tra pubblico diciamo fa dimensione pubblica e società civile proprio dinnanzi a un intervento normativo perché poi di fatto a differenza che in altre città a Napoli è stata riconosciuta la legittimità dei commons e si tratta di commons ben diversi da da un pascolo o da un un fiume nel caso specifico di Napoli si parla di commons urbani e poi a Napoli come vi dicevo i beni comuni emergenti allora l'esperienza partenopea devo fare una brevissima parentesi va letta osservando le caratteristiche socio-economiche della città Napoli è una città che come tutti sappiamo è collocata in una delle regioni più povere d'Europa con uno dei più alti tassi di disoccupazione uno dei più alti tassi di poca partecipazione della forza lavorativa al mondo al lavoro insomma non voglio stare qui a farvi l'analisi precisa con i dati di Napoli immagino che tutti quanti abbiamo una visione della città per farla breve quando si parla di Napoli spesso si pensa alla questione meridionale storicamente e quindi la si colloca rispetto a un'area precisa del sud che cosa succede a Napoli succede che tutta questa forza lavoro che non si esprime nella dinamica del mondo di produzione capitalistico doveva per forza le cose trovare degli spazi diversi e le ha trovati in quella che appunto questa esperienza dei commons urbani perché si sono ritrovati in tanti nella necessità di dotarsi di spazi e forme di produzione che in qualche maniera dessero dignità alla vita di ognuno e quindi si sono organizzati per recuperare concretamente dei beni immobili abbandonati da tanti anni circa vent'anni in funzione della dismissione di una serie di istituzioni pubbliche perché quando parliamo dei beni comuni emergenti napoletani dobbiamo immaginare che stiamo parlando di una serie di beni immobili che sono di circa ognuno di questi misura circa 16.000 metri quadrati quindi beni immobili importanti che hanno anche un valore economico notevole che tra l'altro è stato quantificato dalla Corte dei Conti e che si aggira intorno a un miliardo e mezzo di euro parliamo di ex manicomi di ex carceri minorili di ex istituti religiosi che sono oggi nella disponibilità del patrimonio dell'amministrazione napoletana che è un'amministrazione anche lì ci sono una serie di problemi uno solo che ne cito su tutto il fatto che è un'amministrazione che è altamente indebitata quando un'amministrazione altamente indebitata è inevitabile che diventa difficile gestire il patrimonio pubblico nella maniera corrente quindi spesso si ricorre alla dismissione di questo patrimonio e cioè lo si vende sul mercato in una città come Napoli dove gli interessi del mercato sono diversi rispetto ad altre geografie questi beni rischiano di l'abbandono non rischiano sono caduti dentro un regime di abbandono e quindi gli abitanti della città si sono cominciati a organizzare dentro appunto una logica diversa da quella dello Stato e quella del mercato insieme per dare dignità ai luoghi che abitano e a loro stessi nell'utilizzo di questi luoghi perché poi sono stati riempiti di produzioni di beni e servizi che sono essenziali per la città stessa vi faccio un esempio in uno di questi spazi oggi vive un ambulatorio medico popolare che fornisce servizi sanitari a una buona affezza della città alcuni di questi dati se li volete cercare li trovate anche sul Sole 24 Ore basta digitare su Google Sole 24 Ore esperienza degli ambulatori medici popolari napoletani e vi rendete conto di che parliamo insomma si sono organizzati gli abitanti intorno a questo patrimonio per ridare dignità loro stessi alla loro comunità fuori dalla logica dello Stato e fuori dalla logica del mercato e producendo quindi quello che poi noi abbiamo definito il comune come modo di produzione un nuovo modo di organizzazione sociale intorno a delle risorse ben precise il rapporto che c'è stato tra l'amministrazione pubblica e questi processi di comune che noi chiamiamo così appunto è importante rispetto a è importante sottolineare questo aspetto ma è importante sottolineare al mondo un fatto e cioè che questi processi si sono dati in autonomia rispetto alle istituzioni pubbliche locali le istituzioni pubbliche locali non hanno fatto altro che tra virgolette semplicemente riconoscere quello che nella società stava accadendo cioè diversi gruppi i cittadini che si organizzano per recuperare luoghi abbandonati dalla città o percepiti tali gestiti in comune più lunghi c'è una domanda di uno studente rispetto a quello che dicevi ho una domanda tali servizi sanitari credo si riferisca all'ambulatorio popolare sono a carico di quali individui intende credo dal punto di vista delle risorse finanziarie allora nello specifico questi ambulatori nascono per rispondere a un'esigenza degli abitanti non soddisfatta dalle strutture pubbliche evidentemente cioè c'è stata la necessità oggettiva di organizzarsi in forma diversa per forza di cose dovete quindi immaginare che chi domanda accesso a questi servizi soffre di una serie di deprivazioni anche economiche importanti per cui lo spirito è quello della gratuità quindi di offrire questi servizi in forma gratuita la ricchezza di queste esperienze si misura nel momento in cui la città assume la valenza di questo tipo di esperienza e intorno a queste organizza una serie di sottoscrizioni volontarie o comunque degli eventi specifici per quindi raccogliere fondi funzionali al mantenimento di questo tipo di servizio agito nella forma che vi ho detto prima e cioè spesso gratuitamente e lì poi ci possono anche essere delle esperienze più precise per esempio faccio l'esempio dell'ambulatorio odontoiatrico c'è un ambulatorio odontoiatrico le visite vengono svolte gratuitamente nel momento in cui si rende necessario l'acquisto di un impianto per dei motivi specifici si organizza dentro quella che è la rete di mutualismo di cui questi posti si sono dotati e quindi ogni volta si va a intervenire in maniera precisa secondo quello che sono i casi specifici però diciamo che la tendenza è quella a mantenere gratuito il servizio fino a quando è possibile io vedo che arrivano anche altre cose però non so come si legge la chat mi dovete perdere non ti preoccupare la controllo io tu vai pure avanti c'è una considerazione in cui sempre Giordano Vitale ci dice quindi ad esempio ci sono dei dottori che volontariamente finiscono le proprie forniscono le proprie prestazioni gratuitamente oppure sono finanziate con liberalità Allora la prima esperienza di questo tipo è giusto che oggi interessi questo aspetto perché quando si parla di sanità effettivamente la prima esperienza in questo senso viene organizzata a Napoli da una figura diciamo anche che gode anche di una certa rilevanza a livello nazionale parlo di padre Alex Zanotelli immagino che tanti di voi lo conosciate padre Alex Zanotelli a un certo punto si rende conto che nel quartiere di Schempi è necessario organizzare un ambulatorio medico dal basso per riuscire a fornire i servizi sanitari essenziali agli abitanti di quel quartiere che altrimenti non godevano di copertura sanitaria e interroga per farsi aiutare da questo punto di vista un'altra ONG abbastanza nota in Italia parlo di emergenzi e quindi nasce questa prima esperienza nel quartiere di Scampia tra quella che è appunto la disponibilità di padre Alex Zanotelli a emergenzi a fornire supporto logistico cognitivo anche all'organizzazione di questo tipo di servizio e poi raccolgono la disponibilità di tanti medici ma non solo anche infermieri dentisti ginecologi che si rendono conto effettivamente della necessità oggettiva che c'è sul territorio e quindi si organizzano in forma di volontariato intorno a questo tipo di prime esperienze poi ne nascono tante altre io vi ho citato quella presente nell'ex ospedale psichiatrico dismesso che oggi si chiama ex opg che è uno dei più noti beni comuni emergenti della città partenopea potete cercarlo anche su google vi renderete conto che hanno una pagina facebook molto seguita e attiva che racconta tutto questo tipo di esperienze insomma l'esperienza partenopea a un certo punto diventa centrale nel panorama europeo quanto meno perché ci si rende conto che l'attività che vengono svolte all'interno di questi spazi sono funzionali alla produzione di una ricchezza sociale che non può essere più ignorata e spesso le statistiche sul prodotto interno lord che noi leggiamo non ci dicono niente di queste economie lei si fa finire dentro quello che io chiamo il cardelone delle cosiddette economie informali dove invece si dovrebbe come dire andare con una lente di ingrandimento e questo si può fare soltanto grazie anche al metodo stromiano cioè andando lì ad osservare i fenomeni per rendersi conto di quello che succede perché poi tra l'altro è anche difficile da un punto di vista diciamo ricchezza oggi è difficile dirvi quanto vale se vogliamo usare un prezzo la produzione della ricchezza sociale dentro gli spazi dei commons urbani napoletà è interessante perché durante il processo di riconoscimento dell'assegnazione fatta dal sindaco ai vari gruppi di cittadini utilizzando giuridicamente lo strumento degli usi civici c'è stato comunque la necessità di giustificare anche dal punto di vista del valore l'operazione che si stava facendo perché se non vado errato mi correggerai tu c'è stato un ricorso da parte di credo non ricordo se si trattava di un ricorso ad opera dell'allora governo il sindaco di Napoli oppure se era nato da altre esigenze ma la cosa interessante è che al termine della procedura il lavoro condotto dai tecnici del sindaco insieme anche ai rappresentanti di queste realtà di cittadini che stanno facendo vivere questi spazi gestiti secondo dei commons la giurisprudenza ha dovuto riconoscere che questa è un'operazione di valorizzazione e non di svalorizzazione di quei beni esattamente allora qui dobbiamo fare un breve richiamo storico alla crisi del 2007 dopo la crisi dopo lo scoppio della cosiddetta bolla dei subprime eccetera in Italia col governo Mondi si decide una cosa e cioè che tutte le istituzioni locali indebitate devono dismettere il patrimonio pubblico di cui dispongono per pagare i debiti equivale diciamo questa operazione una riduzione del debito pubblico a Napoli questi beni che appunto vi dicevo prima sono stati quantificati il valore di questi beni è stato quantificato dalla corte dei conti e si aggira intorno a un miliardo e mezzo di euro questi beni non sono stati messi sul mercato dall'amministrazione partenopea ma sono stati riconosciuti in quanto commons perché era già presente l'attività di questi cittadini di cui parlavamo prima che cosa succede succede che una serie di denunce non una specifica vengono fatte nei confronti degli amministratori locali vengono fatte nei confronti degli amministratori locali in particolare si ci rivolge alla sezione contabile della magistratura alla sezione della magistratura contabile della regione campania e gli si fa presente parliamo di oppositori dell'amministrazione comunale o comunque altri cittadini che insomma avverevano un danno nella segnare nella riconoscere questi beni in quanto commons si ci rivolge alla magistratura contabile e la magistratura contabile avvia un'inchiesta che si chiude con la soluzione nei confronti degli amministratori che hanno avviato questo processo del ritorativo che riconosce i commons urbani emergenti perché si riconosce la produzione del valore sociale che in questi spazi viene effettivamente realizzata ed in più si riconosce che le amministrazioni non mettendole su un mercato ma valorizzandole in maniera diversa attraverso i processi di commoning hanno attivato due interessanti aspetti della faccenda il primo attiene a un risparmio netto cioè il fatto che non sono stati venduti questi immobili ha fatto sì che il comune di Napoli registra nei fatti un risparmio nel non aver venduto nel non aver ceduto pezzi del proprio patrimonio e questo risparmio combacia col valore di cui vi dicevo prima e che in più il comune non avendo neanche le risorse economiche tra l'altro per farlo qualora avesse voluto attivare gli ambulatori medici popolari piuttosto che i corsi di lingua o le attività di dopo scuola che si fanno con i bambini insomma vi sto elencando una serie di azioni che vengono compiute dentro l'esperienza dei commons emergenti partenopei per attivare tutta questa serie di attività avrebbe in qualche modo dovuto spendere una cifra che si aggira intorno al mezzo miliardo di euro dall'anno in cui si è avviato il processo cioè dal 2012 al 2020 e dal 2019 scusate che è l'anno in cui si è chiusa il processo che ha assorto gli amministratori locali della città e anche i dirigenti del comune che erano stati chiamati ad attivarsi rispetto a questa unità di gestione di servizio quella dei beni comuni napoletani e per cui in questi anni il comune risparmia ha avuto circa mezzo miliardo di euro che avrebbe dovuto altrimenti spendere per attivare i servizi di ambulatori medici popolari in oposcuola per i bambini le innumerevoli attività che si svolgono soprattutto se penso all'esperienza dell'ex asilo fidanzieri che è una officina di lavoratori dello spettacolo e della cultura che intorno a quello spazio condividendo i modi di produzione che poi lì si tratta di sale prove teatri eccetera c'è tutta una serie di attività che qualora il comune avesse voluto investire per farle avrebbe dovuto mettere a bilancio una cifra che si gira intorno a mezzo miliardo di euro tra gli anni 2012 e 2019 quindi una cifra importante la corte di conto ha riconosciuto questa produzione di valore sociale cioè questa valenza sociale di produzione di quello che Erini Lostrom abbia definito capitale culturale che è un tema che soprattutto negli anni 90 è diventato importante nelle scienze sociali nelle scienze economiche non so se hai risposto sì sì grazie per l'oggi purtroppo dobbiamo chiudere qui perché il tempo a nostra disposizione è finito adesso i ragazzi credo abbiano un'altra lezione che comincia alle quattro e mezzo io ti ringrazio della tua testimonianza il problema non devi scusarti l'unica cosa è se magari poi così ci salutiamo puoi dare qualche riferimento anche sul web che possono andare a vedere le persone interessate al caso napoletano allora io vi lascio la mia email che è pvattimo piocciola unior punto it sì la scrivo adesso io in chat scrivami in chat quindi chi vuole approfondire la tematica interessato a queste ricerche che in questi anni può scrivermi pvattimo senza punto ah ok la riscrivo pvattimo piocciolaunior punto it mi scrivete là e sono super disponibile a fornirvi qualsiasi tipo di indicazione più o meno precisa secondo quelle che sono le richieste che eventualmente verranno su come approfondire questo il tema di cui abbiamo discusso oggi grazie per l'invito grazie a tutti e ci vediamo domani